Buonasera, che cos'è per lei la felicità? La felicità, vedi, caschia fagiola è questa per esempio per me, eccola qua, quindicesimo Montegallo Film Festival, è avere tanti amici che fanno e condividono la mia stessa passione che è il cinema, che vengono qui, ci portano i loro film, ci raccontano le loro storie e mi fanno felice, e fanno felice il pubblico che viene a vedere questi film. E lei è felice? Io sono felice sempre perché sono realizzato, nel senso che quando nella vita riesci a fare quello che desideri, in automatico un po' di felicità ti sprizza fuori. Perfetto, grazie, arrivederci. Arrivederci, sia felice anche a lei. Ci proverò.